Ora, al di là del dato parlamentare, bisogna recuperare consensi nelle realtà locali e con azioni di governo. L'azione di governo la fanno più gli altri, quelli che sono in alleanza, quelli che saranno recuperati. Io recupererei tutti, vede come sono sincero. Quindi anche rispetto a Renzi, recupererei. Nel frattempo, Borgonomo, mi aiuti. Che insomma dice in ogni circostanza, scusi, scusi, no, voglio chiedere a voi. Ma è vero o non è vero per dire insomma come la controversia Renzi la deve aprire con se stessa, avvertenzi, in maniera anche, ironizzando con se seco, in maniera serena. Mi dicono che nella riunione del gruppo di Renzi, Renzi avesse proposto l'opposizione, alcuni avesse proposto l'opposizione. Allora, una volta dici maggioranza, lo stesso ambito e trattiamo. Poi dice opposizione, poi ieri sera porta a porta dice bisogna fare anche l'unità.